La Lega Pro riparte da Francesco Ghirelli, rieletto dall'Assemblea elettiva come presidente. Tra i consiglieri anche il numero uno della Virtus Francavilla, Antonio Magherì, che ha intercettato subito dopo la riunione, ha espresso così ai nostri microfoni la propria soddisfazione. Le sensazioni sono assolutamente positive, perché comunque c'è la volontà, insieme al rieletto presidente Ghirelli, di fare bene, di veramente trovarci in un momento assolutamente decisivo per poter fare le riforme di cui si parla da tanti anni. Quindi ci auguriamo di poter incidere positivamente per rendere finalmente la Lega Pro una Lega sostenibile, una Lega che sia effettivamente un contenitore di squadre che servono al calcio italiano. Il mio obiettivo come consigliere sarà quello di rendermi disponibile ad ascoltare innanzitutto tutti i miei colleghi presidenti e nel fare sintesi di tutte quelle che sono le richieste, le esigenze e portare le proposte opportune per migliorare la nostra Lega.